Le zucchine preparate in questo modo sono buonissime e le potete servire sia a calde che a temperatura ambiente. Lavate le zucchine, spuntatele e affettatele con una mandolina o con un coltello. Tagliate a bastoncini il formaggio a pasta filata, mozzarella, scamorza o provola. Prendete una feta di zucchina, sistemate sulla lunghezza del prosciutto un bastoncino di formaggio. Arrotolate la zucchina dalla parte dove avete messo il formaggio. Proseguite in questo modo con tutte le fete di zucchine e man mano sistematele nella teglia. Quando avete sistemato tutti i rotolini nella teglia aggiungete altri cubetti di formaggio, regolate di sale e di pepe ed aggiungete anche un goccio d'olio. Fate cuocere a forno statico già caldo a 180 gradi per 20 minuti. Serviteli caldi e filanti oppure a temperatura ambiente e ovviamente se li provate fatemi sapere.